Buonasera da Michelino DJ Pienza Radio 67. Signori guardate qui, queste sono le lacrime del norvegese che oggi pomeriggio ha versato nella nostra cittadina guardando la festa dei nonni. Una manifestazione incredibile. È rimasto proprio soddisfatto al 100%, si è commosso tanto e praticamente questo qui è il risultato finale di tutta questa bellissima manifestazione di oggi pomeriggio. Il pensato di Fano è stato molto più freddo e calcolatore ma il norvegese non ha retto. Un pianto ha dirotto e qui ancora ci sono i segni come della sacra sindone. Comunque per tutto il resto ha messo in evidenza una cosa il norvegese nei pochi giorni che è stato qua. Ha notato l'inciviltà da parte dei ciclisti che vengono nelle nostre terre. Loro pensano di essere tutti natura, tutti green, tutti cool, tutti molto perché loro non inquinano e altre cose. Invece sono irrispettosi. Arrivano e lasciano le biciclette dove li pare. Fanno delle cose incredibili. Il norvegese ce l'ha fatto notare. Noi purtroppo, sai, qui siamo della Val d'Orcia, sicché a volte certe cose si possono capire e si vedono con un occhio diverso. Ma il norvegese, da un punto di vista di staccato e altre cose, ha fatto notare che, dice da noi, i ciclisti sono molto più disciplinati. Invece qui i ciclisti sono un pochettino così. Vanno giù per il paese e nessuno le controlla. Comunque non ce la prendiamo. Allora, alle due rotonde. Stasera tappa le due rotonde un'altra volta perché hanno palinato tutta la zona. Allora, lì verrà una bellissima oasi di ripopolamento e cattura di animali esotici. Le operazioni sono iniziate verso le 4 di pomeriggio. Ancora sono in pieno svolgimento. Domattina comunque si pensa che la variabilità sia tutta normale e che non ci sono problemi per il traffico. Allora, a questo punto Michelino vi saluta e ci siamo conosciuti insieme. Ciao, alla prossima.